Questo è il nostro campo primaverile di piselli verdi da consumare freschi o da surgelare. È un campo biologico come tutti i nostri campi e infatti vedete che abbiamo delle belle presenze di erbe infestanti tipo questo farinello, soprattutto farinelli o altre erbe infestanti tipiche dei campi d'asciutta. In questa pianta di farinello potete vedere che ci sono dei raggruppamenti di afidi e c'è anche un'amica coccinella che fa lotta integrata, naturale anzi, e che si pappa un bel po' degli afidi. Dopodiché queste non fanno un grande danno alle piante dei piselli, quindi dobbiamo conviverci e va bene così.